Se vuoi acquistare crediti o FIFA Points a prezzi bassissimi Passa da FIFA Coins Buy e con il codice Harry avrai il 5% di sconto Link in descrizione Buongiorno ragazzi sono Harry Laz Bentornati in questo nuovo video sul mio canale Oggi ragazzi siamo qui tornati nel secondo pack opening The Team of the Season Oggi ragazzi abbiamo la BPL Andiamo a trovare i tozzi della BPL Sono una cosa devastante Ora vi faccio comparire una grafica qui Per farvi vedere quali sono Anche se so che la maggior parte di voi sa già a quale punto sono usciti Quindi ragazzi sono più o meno le 10 Mancano 3 minuti alle 10 Perché fanno uscire in teoria i pacchetti da 125.000 Spero di non restare trollato come la scorsa volta Quindi ragazzi mille mi piace Seconda prossima un nuovissimo pack opening con i tozzi della Bundesliga se non erro Quindi ragazzi siete i crediti qui sotto in iscrizione Codice Harry 5% di sconto E tutti i canali ovviamente della TeamCrew A me non è stata da dire aspettiamo 2 minuti E iniziamo con i pack opening da 125.000 crediti Dai Perfetto ragazzi sono le 10 Qui andiamo con il primo pacchetto da Da 125 Vediamo Non è walkout Vediamo chi è però Palla grossa Schifo tanto so che non è il walkout Ma Tauri Ma diamo tutto al club Qui ci teniamo 2-3 giocatorini che magari ci possono servire per l'SBC Dobbiamo andare veloci Inviamo questo agli trasferimenti E qui scartiamo tutto Andiamo avanti ragazzi 125.000 crediti Ti prego Ti prego Walkout Walkout Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Si si è blu È blu È blu Però c'è Chi è? Brasile Difensore centrale Tiago Tiago Silva Si tiago Silva Ok ok ci sta però Ok tiago Silva ci sta Ma chi è quello blu? È un tozzo sicuro Deve essere un tozzo No Ah Fellaini Poi qui non c'è più un cazzo Vabbè inviamo tutto Al club Qui ci teniamo i soliti 2-3 giocatori Trasferimenti E qui scartiamo tutto Dai 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 Prossimo pack Ne mancano mille e seicento In tutto il mondo Non è walkout Non è walkout Che cazzo è Ho schippato Raga sono troppo in ansia Draxler Ok Qui scartiamo tutto Non me ne faremo Dai Regà è l'ultimo questo Ti prego Signore mio Buonipotente Si Ti prego Il walkout Sì Il walkout È walkout Raga È walkout Ti prego Toz Toz Ti prego Il toz Ti prego Chi è Chi è Diego Diego Costa Diego Costa Diego Costa È questo Costa Saluta Sì 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 Diego Costa Diego Costa Che bestia signori Che bestia di pack Cioè di giocatore Che cosa Sto dicendo Regà È un toz Voto subito Il gruppo Vaffan Oh mio dio Regà Il toz Primo toz Di quest'anno Regà 94 Non ci sto credendo I can't believe it Regà I can't believe it Mamma mia Quanto Quanto Vieni Quanto Vieni Scimione Mio 990 Ok 950 8 7 Stai già Diminuendo Vabbè 700.000 Crediti Sono nostri Regà Più di 700.000 Crediti Sono nostri Inviamoli bene Tutto al club Mamma mia Signori Che pacchetto Non ho più Crediti Se no Ne avrei aperto Un altro Regà Ne avrei aperto Un altro Veramente Ora andiamo Con quelli Che mi sono tenuto Sia del Food Champions Che ho fatto Bronze 1 Veramente Non avevo voglia Di giocare Questa settimana E poi Oh Martial Martial È buono Martial È buono Quanto viene Martial 7500 Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta E stavo dicendo Ho tenuto Quella dell'SBC Dei Pro Player Spero di finire la frase Allora stavo dicendo Sono andato con quelle là Dell'SBC Dei Pro Player E le ho fatte tutte Ovviamente E poi Quelli del Bronze 1 Del Food Champions Che sono comunque Pacchetti Buoni da tenere Sicuramente non buttare via Comunque ragà La sculata Abbiamo fatto Qui c'è Leaf Qui c'è Leaf Chi è di faccio Lecentrale Everton Giagilca Giagilio 84 Perfetto Regà Perfetto Ci siamo Ci siamo Oh my fucking god Diego Costa 94 Regà A me basta Avere trovato Il Toz Devastante Diego Costa 94 di overall Delle stats da paura Mi pare che abbia 98 di tiro 99 addirittura Non mi ricordo Mamma mia Poi lo faccio vedere Al fine di questo pack opening Ne mancano 4 Andiamo con questo qui In mezzo Con Di Maria Fammi trovare Il Toz Qui Invece no Ci fa trovare L'oro raro Bright white Andiamo avanti Regà Giocatori Oro premium Ancora Di Maria In copertina Attenzione Chi è? ES Portogallo Benfica Eliseo in teoria Vediamo No Raffa Era Raffa Scartiamo tutto Ok giocatori Oro premium Come on IA Mi sono good IF IF ATT Zenith Zuba Zuba 84 Altro 84 Che è buono Regà Per le SBC Ci sta Ci sta questo IF Magari anche per qualche discard Regà Se questo video raggiunge 1500 mi piace Vi porto una discard con un altro youtuber Ultimo pack Con Marziale Che non esce niente Però comunque Regà Abbiamo trovato Diego Lino Costa Comunque signori Eccolo qui Diego Lino Costa 94 Mamma mia che bestia Primo proprietario Regà Emuti Emuti 98 di tiro 89 passaggio 95 di dribbling 98 di fisico 85 di velocità Signori Che ATT Questo va dritto nella mia squadra Quindi ragazzi Questo pack opening Finisce qui ovviamente Io spero vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Regà Cerchiamo di raggiungere 1500 mi piace E vi porterò Una discard Con i tots Ovviamente ragazzi Passate questo in descrizione Da tutti i canali Atmultriu Più i siti gradi FIFA Come sbagli Con il codice Eric 5% di sconto Mi raccomando regà Attivate la campanellina E iscrivetevi al canale E niente Bella Grazie a tutti